Con questa video lezione intitolata la comunicazione poetica cominciamo un percorso di analisi del testo poetico. E allora vediamo un pochettino la comunicazione più in generale e poi nello specifico quella poetica, come si organizza e come si struttura. C'è chiaramente un emittente, cioè colui che scrive, in questo caso, nel nostro caso una poesia, c'è un messaggio, e cioè il testo poetico, che viene veicolato attraverso un codice e attraverso un canale e raggiunge un ricevente destinatario. Il messaggio fa riferimento appunto a un referente interno al testo, ma il testo poetico è il frutto di una riflessione che l'emittente o l'autore fa nel suo contesto storico di riferimento. Per cui il contesto, e questo sarà l'ultima slide su cui punteremo la nostra attenzione, è appunto quello che c'è attorno alla produzione di un testo poetico. Cominciamo. Per gradi andiamo a vedere la definizione di emittente. Che cosa intendiamo con emittente? Allora, con emittente noi possiamo intendere o l'autore, cioè la persona storica che scrive i versi con i suoi connotati fisici, psicologici, biografici. Potrebbe essere appunto Giacomo Leopardi, vissuto nella prima metà dell'Ottocento, prima Re Canati e poi in altre città della penisola italiana, oppure può essere l'io lirico, in questo caso il poeta che agisce nella poesia come personaggio, esprimendo per esempio sentimenti, idee o semplicemente descrivendo ciò che vede. Per esempio in questi versi di Giacomo Leopardi, tratti dal canto notturno di un pastore errante dell'Asia, che vado a leggere, c'è identificato proprio l'io lirico. Ed io pur seggo sovra l'erbe all'ombre, un fastidio mi ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sicché sedendo, più che mai son l'unge da trovare pace o loco. Qui Leopardi fa riferimento al pastore che appunto sta seduto su un sasso, mentre vede che il suo greggio sta pascolando apparentemente, senza cruciarsi del dolore che c'è attorno appunto che c'è nel mondo. Ecco, evidentemente noi conosciamo che c'è una forte identificazione tra l'autore, cioè Giacomo Leopardi, e il pastore errante, ma in questo caso è l'io lirico, cioè il pastore errante, che sta parlando, che è seduto appunto su questo sasso e dice appunto io nella poesia. Ed ora soffermiamoci più precisa su l'io lirico, perché l'io lirico si può presentare in diverse sfumature. Possiamo avere una prima persona singolare, come appunto nei versi che abbiamo appena letto, tratti da una famosa poesia di Leopardi, oppure possiamo avere anche un io lirico che si è esplicita in una prima persona plurale, cioè un io che diventa un noi, come in questa brevissima poesia di Ungaretti, volti al travaglio, come una qualsiasi fibra creata, perché ci lamentiamo noi, oppure possiamo avere anche la presenza di una terza persona, l'io lirico cioè che parla in terza persona, come per esempio in questa poesia, l'uomo di notte solo nel gelito dicembre spinge il cancello e rientra, solo nei suoi pensieri. Come vedete appunto abbiamo chiaramente una terza persona di questo uomo che spinge il cancello e torna. La terza persona permette anche una varietà di io lirici, cioè non sempre la terza persona rappresenta un uomo o una donna, quindi l'io lirico rappresenta una persona in carne e ossa, ma può per esempio rappresentare un animale che può parlare, un oggetto evidentemente personificato e che in qualche modo rappresenta anche qualcosa del poeta stesso, oppure possono essere soggetti di questa terza persona anche dei paesaggi naturali. Quindi come vedete con la terza persona noi abbiamo una maggiore varietà di io lirici. Ma ora analizziamo il messaggio, cioè il testo poetico. Che cosa intendiamo per messaggio? Intendiamo ciò che viene trasmesso attraverso il testo poetico. Si tratta ovviamente di un messaggio, un testo poetico che è estremamente denso di significato, molto più denso di significato rispetto a quello che può essere un testo in prosa. Il messaggio di un testo poetico è complicato perché dobbiamo riuscire a districarci tra significante e significato, tra denotazione e connotazione e all'interno della polisemia della parola poetica. Su questi tre aspetti ci sarà un video specifico. Andiamo per esempio a leggere questa bellissima poesia di Emily Dickinson. Bevvi un sorso di vita, vi dirò quanto lo pagai. Precisamente un'esistenza. Il prezzo di mercato, dicevano, Mi pesarono granello per granello, bilanciarono fibra con fibra, Poi mi porsero il valore del mio essere, un solo grammo di cielo. Ecco, con questa brevissima poesia Emily Dickinson ci ha trasmesso il messaggio, un messaggio molto forte, molto intenso, come sempre succede per le poesie della poetessa americana, e cioè il messaggio di questa poesia è il senso della vita, il senso della sua vita, ma probabilmente anche di tante altre persone che in lei si ritrovano. Il messaggio viene formulato dall'emittente attraverso un codice. Che cos'è il codice? Il codice è la lingua in cui appunto una poesia è scritta. Possiamo avere appunto le lingue classiche, l'italiano, il francese, l'inglese, spesso per la lingua si parla di una lingua letteraria, ma su questo torneremo in una video-elezione sul lessico. Ma abbiamo anche poesie scritte in dialetto, e soprattutto nei primi del Novecento, con le avanguardie, assistiamo a una mescolanza di codici, cioè non soltanto il codice della lingua scritta, ma anche codici iconici. È il caso, per esempio, di questo calligramma, di uno dei tanti calligrammi di Guilhelm Apollinaire, in cui appunto il testo poetico va anche a rappresentare una donna con cappello. Per quanto riguarda il canale, invece, possiamo dire che il canale di fatto è un mezzo, cioè si tratta della voce, della scrittura, oppure un supporto fisico, che potrebbe essere la pagina su cui è scritta la poesia, attraverso cui passa il messaggio dell'emittente al destinatario. Quindi questa è la definizione che noi possiamo dare di canale, un mezzo, un supporto fisico, attraverso cui passa il messaggio dall'emittente fino al destinatario. Allora vediamo questo ricevente destinatario, chi è costui. In questa prima slide noi ci interesseremo, per la verità, più sul ricevente, e in particolare distingueremo un lettore reale, cioè la persona fisica che leggerà il testo, come nel nostro esempio, per esempio, la poesia di Giacomo Leopardi del Canto Notturno, e un lettore implicito, cioè il destinatario o il pubblico immaginario a cui l'autore ha destinato la sua poesia. Quindi quello che il poeta aveva immaginato dovesse essere il suo destinatario implicito, o il suo pubblico, che avrebbe letto il testo che aveva appena finito di scrivere. Quindi vero e proprio, diciamo, ricevente. Ma si tratta di, come vediamo, persone reali o immaginari, comunque esterne alla poesia stessa. E allora andiamo a focalizzare attenzione più sul destinatario, che invece lo intendiamo come qualcosa di interno alla poesia stessa. Allora possiamo avere un destinatario di vari tipi. Il destinatario può coincidere con il lettore, come per esempio in questa poesia Benigno, o no, lettore mio. Ecco, un poeta si rivolge direttamente a quello che poi sarà il lettore, anche implicito, o quello reale che lo leggerà. Possiamo avere anche un destinatario che non presenta un'identità specifica, come il caso di questo verso di Petrarca, voi che ascoltate in rime sparsi il suono. Voi, voi. Questo voi generico, che poi sarà un pochettino più specificato, ma anche in questo caso si rientra, insomma, persone che hanno fatto esperienza d'amore. Quindi comunque non c'è un vero e proprio nome e cognome. Però talvolta il poeta destina la sua poesia a un determinato destinatario, come il caso della signorina Felicita di Gozzano. In questo testo molto bello, lungo ma molto molto bello, il poeta si rivolge direttamente alla signorina Felicita, signorina Felicita a quest'ora, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un destinatario determinato. Quando questo destinatario diventa Dio, di fatto abbiamo la poesia preghiera. Altro tipo di destinatario potrebbe essere un concetto personificato, come nel caso di futuro, verso te, in corsa, ci vediamo, eccetera, eccetera. Quindi qua si fa riferimento a un concetto evidentemente personificato, cioè il futuro. Oppure potrebbe essere un oggetto, anche in questo caso personificato, anima mia, no? Fai in fretta, oppure quando talvolta il poeta si rivolge al proprio cuore. Insomma, sicuramente oggetti che sono estremamente cari al poeta che possono raccontare qualcosa del travaglio del poeta oppure di quello che il poeta voleva ovviamente significare. Anche questo personificato può essere la realtà naturale. E il caso di questo verso ritorna domani più freddo vento del nord. Ecco, ovviamente il vento del nord che ritorna, ecco, la personificazione. Ma comunque si tratta anche in questo caso di un destinatario che rappresenta una realtà naturale, cioè non una persona. Ci avviamo verso la conclusione e andiamo a parlare a questo punto del referente. Che cosa si intende per referente in una poesia? Si intendono gli elementi della realtà a cui si fa riferimento nel testo. Come è il caso, per esempio, di questi versi tratti della poesia Piove di Montale, Piove sulla gazzetta ufficiale, qui da balcone aperto, Piove sul parlamento, Piove su via Solferino. Questi riferimenti appunto ci riportano dentro elementi della realtà che il poeta ha voluto tracciare in questo suo testo poetico. Attenzione a non confondere il referente con invece il contesto. Il contesto è ciò che è esterno alla poesia stessa, un po' come il lettore reale, cioè si tratta della situazione in cui la poesia è stata scritta. e quindi fa riferimento al rapporto dell'autore con il suo tempo e con il suo ambiente.